Allora, buongiorno a tutti ragazzi, praticamente il video inizia così, mi trovo in questo momento a casa di mia nonna, era veramente molto tempo che non venivo, ma non ve ne frega niente, comunque oggi parleremo delle Nothing Year One, che in questo momento non ho a portata di mano, ma ci tenevo a fare questo video perché ormai testate e provate da un sacco di tempo e quindi in questo video ci tengo a dirvi quali sono gli errori da non commettere, da non fare assolutamente, prima di comprare questo tipo di cuffie. Perché poi dopo pochi mesi sono subito ripassato alle cuffie precedenti. Adesso però per prima cosa torniamo a casa perché come già vi ho detto non ho le cuffie a portata di mano e stanno a casa di mia nonna, però alla fine niente da fare. Allora ragazzi, eccole qui, queste sono le Nothing Year One. Allora, innanzitutto parto col dirvi che ho già fatto un sacco di video su queste qui, ho fatto unboxing, prime impressioni e recensione. Perché veramente nei primi mesi avevo veramente un sacco di hype su queste tipo di cuffie e ne parlavo troppo bene. Non che siano male come tipo di cuffie anche per quanto riguarda il prezzo, ma come vi ho detto ci stanno degli aspetti negativi che sinceramente mi farebbero tornare indietro e non acquistarle assolutamente. Innanzitutto come già potete vedere voi stessi ho voluto differenziare la colorazione. Perché sì, in realtà già come design sono molto diverse tra loro, però volevo cambiare colore. Infatti come avete visto ho scelto il nero. Concentriamoci adesso però sul case, non tanto sul design ma sul case, su questo scatolotto, perché è quello che mi ha più fatto storcere il naso, se possiamo dire così. Innanzitutto le dimensioni. Cioè, secondo me è troppo esagerato. Io essendo abituato alle airpods che le jeans o in qualunque altro paio di pantaloni, queste sono invisibili, non si vedono letteralmente. Queste sono, a parte l'essere di suo, pesante il case, comunque a tenerlo anche in mano, ma vi faccio un attimo una piccola prova. Proprio sembra di avere un mattone nella tasca. E non soltanto lato estetico, è comunque molto scomodo tenersi una cosa così nella tasca. Però diciamo che su questo si può anche chiudere un occhio. Ma soprattutto, quello che mi ha dispiaciuto molto, oltre a, mi devo raccontare questa, nei primi mesi, non sapevo mai da quale lato bisognava aprire il case, no? Perché essendo quadrato, a quattro lati non capivo mai, mi dava proprio urto questa cosa, dove bisognava aprire il case. Poi non so se è una cosa mia. Poi vabbè, ho scoperto che bisognava alzare da questa piccola parte in magnete e tac, accedevamo alle nostre cuffie. Però pure questo non lo sapevo. Eppure qui, vabbè, semplicemente è una questione di tempo, non le avevo mai provate prima, è normale che alcune cose non si sanno. Ma soprattutto mi sono lamentato molto, negli ultimi mesi, della quantità immane di graffi che prendono queste cuffie. Allora, cercherò di farvelo vedere in qualche modo, in qualche ripresa, che sicuramente starei vedendo qualche video che ho fatto, perché è veramente una cosa esagerata. Si vede anche semplicemente senza il riflesso della luce. Io non dico che le Airpods non abbia preso alcun graffio, anzi, io queste ce le ho da due anni e di graffi ce ne stanno, a voglia. A parte che di base è normale che tutte le cuffie, dopo un certo periodo di tempo, forza di strusciarle anche semplicemente su una superficie piana, qualche graffio si forma. Ma io queste ce le ho non come le Airpods da due anni, ma da tre mesi. Ricordo che l'ho acquistato a dicembre, ho fatto, diciamo, il mega unboxing e siamo a marzo, gennaio, febbraio, marzo, tre mesi. È normale che prenda graffi sicuramente perché questo è un materiale plastico. Potevano spendere di più sul tipo di materiale da utilizzare, no? Perché poi il prezzo sarebbe aumentato notevolmente e per essere le prime cuffie pochi l'avrebbero comprato. È comunque anche difficile come cosa, però davvero troppo. Ok, adesso usciamo, vi porto anche le cuffie, così vi faccio sentire anche l'audio. Intanto vi racconto, mentre ascoltate, cosa non mi è piaciuto su queste. E visto che ci sono, vi anticipo anche che purtroppo, dopo alcuni mesi di utilizzo, il gommino delle cuffie purtroppo si rovina dopo un po' di utilizzo. Nonostante io abbia preso quello nero, quindi non ho idea di come diventi quello là bianco. Vedete che adesso stavo provando ad aprirle, però con una mano è letteralmente impossibile. Adesso che sto riprendendo con l'altro braccio. Ok, le sto utilizzando in questo momento. Sto utilizzando in particolare la modalità trasparenza. Adesso c'è un bel po' di casino. C'è anche un canne che sta baggando in questo momento. Cosa ne pensate riguardante l'audio? Ok, vabbè, questa modalità è troppo bella. Sto utilizzando la cancellazione attiva del rumore e non sento assolutamente nulla. Adesso mi sta passando con la macchina. Io non la sento, certo, un minimo sì, perché mi sta a due metri di distanza. Però, troppo figo. Però, per quanto riguarda invece la compatibilità, mi trovo assolutamente meglio con le AirPods. Perché certo, qui c'è proprio un'applicazione a parte. Però, vabbè, dai, ci si può fare l'abitudine anche su questo. Sempre le AirPods, però in questo caso. Va bene, concludiamo adesso questo video sulle cuffie. Tra l'altro, se sei arrivato a questo punto del video, attenzione a seguire bene tutto il video. Perché alcune volte potrebbero esserci spoiler. In questo caso sì. Ma per Pasqua avevo in mente di comprarmi un gadget di questo tipo. Non vi dico quale marca, perché... Allora, vi dico solo che molti youtuber l'hanno già testate. E sono veramente un prodotto super interessante. Quindi, io non dico che questo sia un pessimo prodotto. Ho voluto soltanto mettere in evidenza, secondo me, i lati negativi di queste cuffiette. Intanto si è attivato l'onbot minimi. Perfetto. Però ecco, ve la butto giù così. Secondo me queste sono delle cuffie che vanno bene per chi ha Android.